Installazione pedivella FSA BB386 EVO su telaio PF30 ROAD Attrezzi Pressa per calotte Chiave dinamometrica Scala fino a 55 Nm Innesto brugola 10 mm Adattatori MV258 Installazione press fit 30 Assicurarsi che la scatola Movimento Centrale sia pulita e priva di residui di lavorazione, sporco o eccessi di verniciatura prima di effettuare l'installazione del Movimento Centrale Inserire le calotte nella pressa facendola scorrere attraverso la scatola del Movimento Centrale Assicurarsi che i distanziali interni siano perfettamente allineati per evitare danni Una metà dei distanziali deve facilmente accoppiarsi con l'altra Applicare un leggero strato di loctite alle calotte press fit 30 nella scatola Movimento Avvitando la pressa, spingere le calotte nella scatola Movimento Serrando fino a quando le calotte sono perfettamente allineate con la scatola Movimento Una volta installate completamente le calotte press fit 30, svitare la pressa e rimuoverla dalla scatola Movimento Assicurarsi che le calotte siano perfettamente allineate e dritte In caso contrario si potrebbero verificare danni ai parapolvere e dalla scatola Movimento Verificare la fluidità di rotazione dei cuscinetti Se la scorrevolezza non risulta perfetta potrebbe essere un'indicazione che le calotte non siano perfettamente allineate nella scatola Movimento Sarà necessario rimuovere e reinstallare le calotte con cautela Installazione delle pedivelle FSA BB386 Evo Applicare del grasso sul perno della pedivella e sull'adattatore in alluminio Inserire l'adattatore MV258 sul perno con il diametro esterno minore nel lato opposto al cuscinetto Posizionare lo schermo del cuscinetto destro con il lato in gomma rivolto verso l'esterno e applicare un leggero strato di grasso sulla superficie di contatto con il cuscinetto Inserire completamente il perno del braccio destro attraverso i cuscinetti destro e sinistro Applicare un leggero strato di grasso sulla superficie di contatto con il cuscinetto Posizionare lo schermo sinistro con il lato in gomma rivolto verso l'esterno e il rimanente adattatore MV258 con il diametro esterno minore verso l'esterno Installare la rondella ondulata sul perno dal lato sinistro della scatola Movimento Installare la pedivella sinistra sul perno Avvitare la vite del perno utilizzando una chiave dinamometrica con innesto da 10 mm Utilizzare una coppia di serraggio compresa tra 38-41 Nm Fare attenzione a non oltrepassare la coppia di serraggio della vite La rondella ondulata non deve risultare completamente piatta per garantire il corretto funzionamento della pedivella Rimozione PressFit 30 Attrezzi Attrezzo Park Tool BBT 30.3 Mazzetta a testa gommata Inserire la testa dell'attrezzo attraverso il movimento centrale e fino a quando è a contatto con l'interno della calotta PressFit 30 opposta Alloggiare la guida in plastica nel movimento centrale Spingere l'attrezzo attraverso l'uso della mazzetta per rimuovere la calotta Ripetere le operazioni precedenti per il lato opposto del movimento PressFit 30 Ripetere le operazioni precedenti per il movimento